Per la sua visita istituzionale alla comunità di Santa Margherita, duramente provata dall'alluvione di venerdì scorso, il sindaco di Santa Margherita, Gaspari Viola, ha scelto il calvario a ridosso proprio di uno dei ruderi del terremoto del 1968, testimonianza di quella tragedia per ricevere il prefetto di Grigento, Maria Rita Cocciufa, che ha detto al sindaco che questo è il segno di cambiamenti climatici che sono innegabili, ma al tempo stesso lo Stato sarà vicino, anche se dovrà essere la Regione a fare la sua parte, soprattutto sul piano dei ristori economici nei confronti del tessuto produttivo, soprattutto quello dell'agricoltura, che ha subito conseguenze a dir poco devastanti. La zona del calvario di Santa Margherita è un po' il simbolo delle conseguenze gravissime subite dal territorio per il maltempo di venerdì sera. Per fortuna non ci sono state vittime, ha precisato la rappresentante del governo, parlando anche del grave incidente al pullman della Gallo Sais. La cosa positiva, assolutamente positiva, è che non ci sono state vittime, non ci sono state persone che si sono fatte male, seppure qualche piccola ferita, ferite ma comunque lievi per queste persone che si trovavano sul pullman. E' un'altra cosa che la macchina dei soccorsi sta dando sempre di più prova di grande efficienza e tempestività. Oggi è già una soddisfazione non piangere morti, lo dico veramente. Allora dobbiamo fare determinate cose, ma le dobbiamo fare tutte insieme. Poi io devo dire che un applauso veramente a questa gente, a questa sua comunità, che è fortemente provata in un passato che poi non è neanche lontanissimo. Io ricordo bene quei giorni, perché ho anche un'età e quindi avevo già un'età anche allora, in cui ero nelle condizioni di capire che cosa era successo. Quindi una comunità fortemente provata, ma una comunità che è caduta e si è rialzata e anche questa, che è una caduta fortunatamente meno drammatica di tanti anni fa, si risolleverà. Certo, la regione dovrà fare la sua parte, la regione soprattutto, ma anche il governo nazionale. Ha poi evidenziato la prefetta di Agrigento come ormai i cambiamenti climatici siano innegabili e come i prossimi mesi autunnali debbano far trovare pronte tutta la comunità per eventuali nuove andate di maltempo. Noi abbiamo davanti due mesi, e speriamo che siano solo due, che è l'autunno, che quando tutti questi fenomeni purtroppo, vedete passiamo da questo cielo azzurro bellissimo che sembra una giornata adatta per andare al mare, a questi momenti, a questi flash che spesso durano pochissimo, ma nell'arco di pochissimo tempo può veramente scatenarsi, la natura si scatena con tutta la sua forza, con tutta la sua violenza. Quindi si può fare tanto, io credo che qualche cosa già, le radici le stiamo mettendo insieme. Sono eventi che ormai stanno diventando un po' la regola, è difficile anche dire queste cose. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo lavorando per cercare di rafforzare soprattutto gli strumenti di prevenzione, le pianificazioni comunali e anche abbiamo sollecitato i sindaci perché siano un po' più attenti ai punti più critici del territorio. Il sindaco Gaspari Viola ha fatto un resoconto sommario degli interventi immediati fatti dalla comunità nei minuti concitati della bomba d'acqua, proprio mentre questa stava accadendo. Le comunità locali, in una società globalizzata, di fronte allo scenario dei cambiamenti climatici, anche noi, una popolazione, io penso ai nostri produttori, avvezzi a condizioni di vita dura, avvezzi a fronteggiare avversità naturali e politiche. Non mi riferisco soltanto al terremoto del 68, ma a una civiltà contadina che ha comportato, ha implicato condizioni di vita durissime per i nostri contadini, per i nostri agricoltori. Di fronte a questi scenari hanno bisogno di un sostegno, un sostegno intelligente da parte della regione, da parte dell'istituzione, da parte dello Stato, in termini di professionalità, non solo in termini economici, di contributi a pioggia, ma in termini proprio di professionalità, un contributo che sia, un sostegno che sia intelligente. Noi abbiamo bisogno di mettere ordine anche al territorio, al tema della, appunto, come diceva lei prima, alla responsabilità sul tema del complesso, della irregimentazione delle acque meteoriche, tutto quello che va fatto di fronte a questo. Noi dobbiamo prepararci, perché chiaramente non sono fatti isolati questi, lo sappiamo. Il Comune di Santa Margherita ha chiesto alla regione la proclamazione dello Stato di Calamità Naturale, soprattutto per cercare di ristorare il mondo agricolo che, oltre danni ai campi di Fico d'India, ne ha subiti anche gli uliveti. Alla visita della prefetta ha partecipato anche il vice sindaco di Montevago, Vincenzo Enfranco. Noi come amministrazione comunale di Montevago siamo al lavoro per cercare di intercettare tutte le, diciamo, istanze che i produttori agricoli stanno nel frattempo, diciamo, segnalando. Anche da noi ci sono stati danni agli uliveti, anche da noi ci sono stati danni ai Fico d'Indieti, per cui sarà fatto tutto ciò che è giusto fare in questo momento di difficoltà per entrambi i paesi. Grazie. 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 Grazie.